Qual è stata la vostra emozione, la vostra sensazione quando siete arrivati sul set? Perché siete al fianco entrambi di attori stupendi. Per me la cosa sicuramente divertente è stata, divertente e anche sorprendente, è stata che io fino alla sera prima di mettere piede sul set non sapevo chi sarebbe stato mio compagno di scena. Non sapevo chi sarebbe stato Jorgensen. Per cui ero nella camera d'albergo a Trieste e mi è arrivato l'ordine del giorno e ho letto accanto al mio nome Jean Reno. Ovviamente quello è stato il mio regalo di benvenuto. Ovviamente è stata un'emozione molto forte e anche appunto un certo senso di responsabilità e anzi da prestazione che però, come anche Stefano racconterà, si è sciolto subito sul set perché tutti questi grandi attori e il regista Gary Gray sono stati incredibilmente accoglienti, hanno reso il lavoro. Come dire, l'integrazione, la nostra integrazione all'interno di questo set, di questo cast stellare, devo dire, molto semplice. Anche per me è stata un po' una sorpresa. Poi io sono entrato nel film, diciamo, lo stesso è successo anche a Martina poi perché lo so. Sono entrato nel film inizialmente per un piccolo ruolo. Erano due o tre giorni di lavoro a Venezia, genericamente era un Italian agent, un carabiniero italiano. E poi sono cambiate le cose in corsa. Sapevo solo che era il regista, cioè F. Gary Gray, che l'ho già apprezzato per Straight Outta Compton, per The Italian Job, insomma e tanti altri che ha fatto. Però non sapevo nulla per cui anch'io mi sono stupito con i vari ordini del giorno che si seguivano. E quindi Kevin Hart, Gugum Batarou, Sam Worthington, Vincent D'Onofrio, né io né Martina ci abbiamo interagito, purtroppo Jean Reno, Ursula Corbero, insomma vabbè. Quindi è stata sempre un'emozione continua. Perciò che mi riguarda, come ti dicevo, io sono iniziato a Venezia e dopo il secondo giorno di ripresa mi è stato comunicato che appunto il mio personaggio sarebbe stato sviluppato. La mia gente non mi ha dato grosse indicazioni, per cui un bel mattino mi sono ritrovato nella chiesa della Scuola Grande di San Rocco, quindi insomma diciamo un pezzo d'arte e io mi sono trovato lì dentro con la produttrice e il regista che mi hanno spiegato che appunto il mio personaggio si sarebbe evoluto diciamo all'interno della storia e avrebbe preso il mio nome, per cui questo carabiniero italiano che si occupa di tutela dei beni culturali si chiama nel film Stefani e quindi io poi li ho seguiti diciamo a Venezia, poi a Trieste dove io e Martina ci siamo incontrati, poi Belfast, poi Londra quando abbiamo recitato negli studios dove io e Martina ci siamo rincontrati una seconda volta. Quindi insomma grande soddisfazione penso per un attore iniziare con una parte più piccola tra virgolette con poche pose e poi invece vedere che il proprio personaggio viene sviluppato vuol dire sì che è interessante il personaggio ma evidentemente anche l'attore ha saputo dare qualcosa in più che uno magari non si aspettava forse penso. Non lo so, non lo so, io la voglio leggere in questo modo. Io credo che Gary si sia dato la possibilità di incuriosirsi durante questo film e quindi è successo questo, questa grande magia è successa a me, è successa a Martina ed ecco perché siamo qui a condividere insieme con voi insomma questa esperienza assolutamente incredibile che io personalmente auguro a tutti i colleghi e le colleghe che come me e come Martina perché lo so abbiamo parlato molto io e lei hanno voluto fortemente questo mestiere con grande passione, con grande coerenza e con grande tenacia. Noi siamo stati fortunati, c'è successo in un set americano, un mega set americano in cui abbiamo trovato un regista incredibile che si è lasciato come dire lo spazio e la curiosità di farsi affascinare forse insomma ecco, non voglio dire più di questo. Che cos'è che abbiamo portato a casa entrambi da questo set? Ci siamo portati a casa sicuramente l'esperienza magnificente di lavorare in un set così grande di lavorare con dei colleghi così preparati, così talentuosi allo stesso tempo con delle umanità molto molto interessanti dal mio punto di vista cioè quindi delle persone molto sensibili, molto attente. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, è la grandezza dei grandi appunto è quella di essere delle persone semplici nel senso più bello che questa parola contiene. Ho interagito in maniera particolare diciamo con Gugum Bataro che interpreta Abby che è il mio primo capo diciamo durante questa indagine e Sam Worthington che è il nostro capo supremo diciamo io seguo questa operazione dell'Interpol no? Che insomma poi molto ha raccontato già Martina appunto raccontando il suo personaggio io seguo questa operazione mastodontica di polizia. Sam in particolar modo devo dire perché abbiamo avuto più scene ecco insieme si è rivelato una persona veramente incredibile, abbiamo chiacchierato molto, abbiamo parlato delle nostre rispettive visioni rispetto a questo mestiere, ci sono stati dei momenti in cui a me sono state cambiate le battute tipo il giorno prima e ho avuto i primi due ciac di una scena anche abbastanza importante piuttosto tosti, Sam è venuto da me e mi ha detto sai che io quando ti vedo recitare siamo lì che recitiamo insieme, dice mi piace molto perché dai tuoi occhi io vedo che pensi a tutto quello che dici, la cosa buffa in questo momento che ti vedo pensare due volte, una in italiano e una in inglese ma mi ha detto se fosse successo a me in italiano staremo qui tutta la giornata quindi vai tranquillo e abbiamo portato a casa. Insomma è una persona che ti sprona in questo modo, cioè con sensibilità e ironia allo stesso tempo io non posso che apprezzarlo moltissimo e mi ha dato una grande mano, ho portato a casa dei grandi insegnamenti dai nostri colleghi e da Gary, ovviamente insomma un grande maestro del cinema, un grande cineasta. Io sicuramente fra le varie cose assolutamente concordo con quello che Stefano ha detto sulla dinamica del set, porto a casa il privilegio e la bellezza di aver lavorato con Jean Reno sicuramente come dire, quella è stata un'esperienza veramente, sembra cliché dire straordinaria perché ovviamente uno si aspetta nel momento in cui si trova accanto a un personaggio del genere ma non mi era mai capitato di trovarmi forse accanto a un personaggio di questo calibro e sicuramente la bellezza in questo caso è sia la bellezza di osservarlo lavorare ma anche la bellezza di potersi elevare come professionista accanto a un attore di questo calibro e come diceva Stefano la generosità anche dei grandi sta nella capacità di creare spazio per i propri colleghi di ovviamente sapere profondamente nel proprio corpo che una scena si fa a due chiunque l'altro attore sia e Jean, anche quando la telecamera era su di me è sempre stato lui a darmi tutte le battute non c'è stato un momento in cui abbia lasciato il set non c'è stato un momento in cui mi siano state date battute da un backup artist, da una spalla è sempre stato presente e una delle cose che lui spesso racconta è l'importanza del teatro per un attore e la sua presenza scenica è una presenza palcoscenica è presente sul set come sarebbe presente sul palcoscenico e come tale conosce, sa e regala la necessità di danzare a due in una scena quindi per me la possibilità di occupare uno spazio stando accanto a Jean Reno è stato un regalo importante perché ovviamente si tratta di uno spazio grande da occupare e me lo sono presa tutto il più possibile ho cercato di sfruttarlo al meglio perché non ho intenzione di sprecare un regalo del genere assolutamente